L'esposto al Tribunale di Roma, iniziativa più ridicola che minacciosa, il commissario di governo per la Torino Ione, Paolo Foglietta, non ha tardato a replicare all'annuncio di sabato a Benaus del movimento Notav di un ricorso alla magistratura. Secondo i ricorrenti, i parlamentari furono ingannati da analisi tecniche e dati errati. Anche la richiesta di una moratoria sulla TAV annunciata dall'eurodeputata Verde De Lì, presidente della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, viene giudicata da Foglietta come una posizione non istituzionale in contrasto con le scelte della Commissione e del Parlamento Europeo.